questi sono i miei video preferiti i video dove le persone mostrano gli strumenti che utilizzano per portare a compimento il proprio lavoro di solito quando ne faccio partire uno fermo tutto e mi metto a prendere appunti perché non si sa mai che ci sia un qualche piccolo trucco suggerimento da introdurre al mio arsenale spero che questo sia valido anche per voi oggi perché oggi voglio mostrarvi il mio kit il mio zaino da viaggio con indumenti e strumenti per un viaggio lavorativo di cinque o sette giorni nel quale ovviamente dovrò anche andare a registrare un qualche video perché alla fine faccio anche lo youtuber faccio questo video perché come a tutti mi manca viaggiare e anche il solo preparare questo zaino mi ha fatto stare meglio ed oltretutto perché in questo periodo siamo in un periodo di offerte perciò potreste facilmente trovare alcuni degli oggetti che menziono in sconto e oltretutto spero di potervi aiutare ad evitare qualche boiata esperienza personale detto questo come sempre tutti i link delle cose che andrà menzionate li trovate qui sotto in descrizione ed oltretutto trovate anche il link per unirvi al nostro gruppo telegram risparmio dove al suo interno trovate tantissime offerte ed oltretutto in questo periodo stiamo regalando buoni amazon quindi unitevi al gruppo se volete avere una possibilità di vincerli detto questo andiamo ad aprire questo magnifico thule subterra da 25 litri io amo questo zaino per la sua compattezza e accessibilità man mano nel video vedrete tutte le tasche nascoste ed oltretutto non ho mai avuto un singolo problema con questo zaino in nessun volo ci sta tranquillamente nel sedile davanti infilato sotto sedile davanti parto dalla tasca centrale la più grande quella che si apre tra l'altro completamente con questa cerniera fantastica qui c'è la seconda fotocamera che mi porto sempre via che ora vado ad aprire così poi la utilizziamo per andare avanti con il video abbiamo due inquadrature la fotocamera in questo bellissimo astuccio manfrotto compattissimo e comodissimo e la fotocamera con cui vado sempre in giro è una sony a 6.600 in kit con una lente sony 16 70 f4 lente molto molto versatile e soprattutto stabilizzata se devo fare qualche ripresa seguendo qualche persona e registrando il suo audio al suo interno per rendere tutto più compatto c'è già un sd da 128 giga la batteria è sempre qui dentro in questo astuccio fantastico ci sono le altre due batterie di ricambio ora abbiamo anche la seconda fotocamera quella di cui vi parlavo un istante fa comunque come avete notato io una filosofia abbastanza minimalista giro con uno zaino di soli 25 litri perché è molto più comodo e pratico piuttosto che portarsi via mille bagagli seguendo questa filosofia devo fare delle scelte e devo fare a meno di certe cose che potrebbero essermi utili ovviamente queste scelte le faccio anche in base a quello che dovrò andare a fare e alla stagione dove ci troviamo infatti lì dietro un tavolino di strumenti aggiuntivi che dopo mi mostro che alle volte porto via piuttosto di strumenti che ci sono qui dentro in base anche alla stagione a dove devo andare comunque continuiamo ad aprire perché sennò vi annoio qui abbiamo un bel porta oggetti thule un altro porta oggetti thule ragazzi thule non mi sta pagando però se mi voleste pagare gli accetto molto volentieri amo i vostri oggetti grazie e poi qui abbiamo tutto il vestiario se così si può dire andiamo ad aprire questi e dopo vi faccio vedere tutto il resto con tutte le taschine questo qui così poi abbiamo anche il microfono lavalier da collegare a quella fotocamera qui dentro invece a una cam link che mi serve per fare eventuali streaming eventuali live per collegare la fotocamera al computer tiriamola fuori cavi di ogni genere qui abbiamo un road video micro il microfono che uso nel caso io debba andare a fare qualche blog qui abbiamo il road go che serve per collegare wireless i microfoni lavalier e oltretutto uno dei due ha già un microfono quindi se non c'è lavalier posso direttamente utilizzare questo come normale microfono e questo va collegato alla fotocamera cosa che adesso facciamo con il microfono lavalier che mi porto in giro ora abbiamo collegato lavalier che è collegato wireless con la fotocamera con il road go andiamo avanti e qui abbiamo un altro lavalier sempre road però questo qui ha già pronto questo adattatore lightning tre e mezzo perché nel caso abbia bisogno di un altro segnale audio lo vado a collegare ad un cellulare e registro l'audio sul cellulare infatti come vedrete dopo nelle tasche dello zaino c'è anche un altro cellulare oltre al mio principale il mio cellulare principale che porto con me in tutti i viaggi che utilizzo per fare qualsiasi cosa ragazzi questo sta diventando ormai un computer è l'iphone 11 pro max con il battery case di apple fantastico fenomenale probabilmente potrei replicare tutta la mia attrezzatura fotografica con questo e riuscirei ad ottenere comunque un buon risultato poi nelle mie tasche se vi interessa ovviamente il mio portafoglio magari ci facciamo un video approfondito e tra l'altro li sto creando io i nuovi portafogli ma questo è uno spoiler ve li farò vedere più avanti lo metto qui poi alle volte ci sono le airpods che in questo momento sono dentro allo zaino e alle volte ci sono le chiavi comunque andiamo avanti sempre in questo porta oggetti c'è un caricatore a muro au key con quattro prese usb con la presa intercambiabile perché ora mi trovo a londra questa è la presa britannica poi molto spesso mi capita di tornare in italia e cambiarlo con la presa italiana che dopo vi farò vedere è qui dentro cavo hdmi micro hdmi per collegare la fotocamera al computer con il cam link qui ci sono un po di sd di sicurezza nel caso in cui mi dimentichi un sd per una fotocamera nel caso in cui succede a qualsiasi cosa io ho comunque 3 sd in caso di emergenza posso utilizzare capita spesso che queste qui salvino il mio lavoro e portino a casa lo stesso il video ultima cosa qui dentro questo è favoloso lo uso per tutti i video come luce di sfondo è una bowling p one una luce a led questa è fenomenale è potentissima la vedete usata come sfondo di tantissimi miei video su youtube e diciamo che è il mio coltellino svizzero per quel che riguarda il reparto luci la uso veramente per fare tantissime cose questo beauty lo ripopoliamo velocemente poi lo sistemerò questo porta oggetti non lascia mai il mio zaino lo porto con me veramente ovunque anche nel caso io debba fare un uscita di un giorno per andare da qualche parte adesso non si va da nessuna parte comunque quando andavo in uffici quando andava a fare incontri con persone lo porto con me sempre perché al suo interno c'è il mio kit di sopravvivenza qui c'è un hub usb c per il mio macbook per riuscire a collegarci qualsiasi cosa ci sono tutti i cavi per ricaricare tutti i miei dispositivi quindi usb lightning usb c lightning usb c2 usb c cavo per ricaricare il mio apple watch cavo usb c usb per collegare qualsiasi dispositivo al computer presa a muro con cavo per ricaricare il macbook infilate qui sotto ci sono tutte le teste intercambiabili per la presa a muro della ricarica del mac e per la presa a muro auki che vi avevo fatto vedere prima qui invece troviamo un paio di cuffie a cavo che possono sempre essere utili un altro cavo usb usb cd per la ricarica un cavo micro usb usb e un'altra sd di salvataggio le sd ormai le tengo sparse ovunque perché per esperienza personale alle volte mi dimentico di lasciarle dentro la fotocamera rimangono a casa dall'altra parte qui c'è un'altra tasca aggiuntiva poi ragazzi questi porto oggetti ve li consiglio tantissimo vi lascio entrambi i link qui sotto in descrizione sono favolosi e costano pochissimo qui c'è un caricabatterie che si può usare per l'apple watch e per ricaricare un qualsiasi dispositivo e dopodiché ho le mie magiche saponette una con una sim britannica e un'altra con una sim italiana così sono connesso ovunque io vada questo diciamo è il mio kit di sopravvivenza dopo ci metterò un anno a risistemare ma riprendiamo in mano lo zaino e cambiamo un po ambiente perché sennò ci annoiamo mettiamoci qui postiamo questo e vi faccio vedere cosa c'è all'interno del mio zaino apriamo poi queste taschine le lascio per ultime perché sono quelle più fighe quelle più accessibili qui dentro ci sono set bagno condensato e comodissimo e trasparente per cui quando sono in aeroporto quello che faccio è aprire così aprire leggermente questo prendere questo buttarlo nel cestello e siamo a posto è tutto lì è tutto condensato c'è dentro l'essenziale nulla di più nulla di meno e io sono contentissimo con quello lì spaziale qui andiamo a tirare giù ovviamente mutande quattro paia perché poi molto spesso le lavo e le riutilizzo all'interno dei miei viaggi se durano più di quattro giorni calzini quattro paia di calzini stessa cosa e qui ci sono tutto il vestiario abbiamo un asciugamano in microfibra un paio di pantaloncini multiuso questi qui possono essere usati come costume per andare fuori a correre come semplici pantaloncini insomma sono sintetici e quindi li uso ovunque una felpa se devo andare a correre se devo andare a fare qualsiasi cosa la utilizzo ovviamente più ogni cosa è neutra e multiuso più la si può utilizzare in diversi ambiti poi abbiamo tre magliette di cui due nere e una bianca il kiwi veramente ragazzi consigliatissimo penso sia il pezzo che non dovrebbe mai mancare all'interno di ogni zaino di ogni viaggiatore perché io innanzitutto odio utilizzare l'ombrello preferisco prendermi la pioggia in testa però ovviamente rimanere asciutto internamente e oltretutto questo qui tiene il vento che molto spesso è la principale causa del freddo quindi molto spesso basta una maglietta un kiwi per avere dieci volte più caldo come avete visto all'interno dello zaino metto il vestiario meno ingombrante perché così riesco avere più spazio per gli altri oggetti infatti quando parto ho sempre i jeans che utilizzo in qualsiasi ambito dall'ambito lavorativo all'ambito casual all'ambito elegante io quasi sempre sono in jeans ed oltretutto sempre addosso la felpa ed il giubbotto se stagione oltretutto se è inverno porto con me ovviamente come vedete qui guanti e un berretto un paio di calzini pesanti che di solito metto addosso quando sto partendo maglia termica e pantaloncini termici perché rapporto peso e spazio occupato e calore che lasciano nel corpo ragazzi favoloso sono fatti apposta per farci caldo quindi perché non usarli vi ho detto tutto per quel che riguarda il vestiario l'ultima cosa che mi è rimasta da dirvi è il compartimento scarpe che devono essere il più eleganti e sportive e multiuso allo stesso tempo io vado via soltanto con un paio di scarpe in questo momento delle sauconi nere che a me piacciono e poi vabbè ognuno ha il suo gusto e comunque stanno bene con tutte le cose che io utilizzo come avete visto ho tutto in bianco in nero o comunque color jeans andiamo avanti con tutte le tasche minori di questo zaino qui dentro c'è questa tasca qui che alle volte utilizzo per l'intimo molto spesso rimane vuota quindi poco interessante andiamo a chiudere questo scompartimento e partiamo dalla tasca che in assoluto più utilizzo qui dentro dopo aver aperto lo zaino metto sempre secondo cellulare io vado via sempre con due cellulari uno con una sim italiana e uno con una sim inglese uno che uso per questioni personali e uno che uso per questioni aziendali o comunque per altri tipi di contatti e questo lo utilizzo sempre anche per registrare la seconda traccia audio nei miei video come vi dicevo prima se c'è bisogno di una seconda traccia audio sempre qui dentro dentro questa tasca magica troviamo una penna che porto sempre con me utilissimo avere una penna e i miei documenti ora non voglio farveli vedere però sono carta d'identità fierissimo del comune di albignasego passaporto infilata dentro la carta d'identità c'è la mia tessera sanitaria ora metto da parte tutto così non mi copiate i documenti e altre due cose che ci sono dentro questa tasca magica fazzolettino di cotone utile per qualsiasi cosa pulire lenti pulire monitor pulire schermi lo uso molto molto spesso e le airpods la mia scelta di cuffie io principalmente queste le utilizzo per ascoltare audiolibri mentre sono in aereo o per ascoltare un qualsiasi video non sono particolarmente ascoltatore di musica però gli amici mi hanno comunicato che sono anche delle buone cuffie se si vuole ascoltare la musica però io non sono assolutamente un esperto in ambito audio questo taschino è finito di solito ci metto anche le chiavi di casa qui attaccate che adesso ho dimenticato di di mettere quindi sarei rimasto fuori di casa poi altra tasca che accedo forse ancora più spesso è questa laterale è pensata per gli occhiali o comunque oggetti da proteggere infatti come vedete come vedete c'è la sua protezione io invece l'ho trovata più comoda per una batteria da 20.000 mAh anche veramente favolosa la uso per ricaricare qualsiasi cosa dal mio macbook al mio iphone a qualsiasi altro tipo di dispositivo sempre qui all'interno due cavi uno corto lightning e uno lungo sempre usb lightning perché gran parte del mio lavoro in viaggio lo faccio attraverso l'iphone a casa l'iphone non lo tocco e uso soltanto il computer però in viaggio è molto più comodo poi abbiamo retina laterale che oltre a metterci questo treppiede di solito riempio anche con una borraccia amo questo treppiede per il semplice motivo che può tenere sopra qualsiasi cosa perché con questo attacco ci riesco a mettere sopra la fotocamera però se io lo apro così diventa un treppiede che può portare un qualsiasi cellulare infatti molto spesso quando sono in viaggio e devo fare qualche intervista e devo usare due inquadrature per una inquadratura utilizzo questa fotocamera mentre per l'altra inquadratura utilizzo il mio fantastico iphone 11 pro max che in realtà sto pensando di cambiare per fare l'upgrade al successivo però voi mi direte ok ma non hai due cavalletti dove tieni la fotocamera dove tiene il cellulare in realtà vi sbagliate perché qui ho un altro cavallettino manfrotto questo lo utilizzo ovviamente per la fotocamera perché non ha la presa per il cellulare e questo lo utilizzo per il cellulare tra l'altro anche le gambe snodabili e quindi se ho bisogno di incastrarlo in qualche luogo angusto riesco a farlo ultime cose qui dentro un sacchettino dove metto tutte le cose sporche infatti quando le cose si sporcano io non le rimetto mai più dentro lo zaino ma le tengo sempre separatamente e quando mi presento in aeroporto poi al ritorno o lo zaino e il sacchettino di roba sporca non ho mai avuto nessun problema e nessuno mi ha mai fatto un problema nel caso me ne facessero schiaccio tutto e fico dentro lo zaino ma per il momento non è mai successo quindi procedo così perché mi sembra la cosa più sana e anche più comoda perché magari al ritorno devo mettere più cose dentro lo zaino perché non si sa mai ho preso qualcosa o mi hanno regalato qualche libro devo portare qualcosa a casa se metto la roba onta come si direbbe in dialetto veneto qui ho più spazio qui dentro per mettere altre cose e comunque il mio consiglio è sempre avere un po di spazio dentro lo zaino perché non si sa mai odio andare via con tutte le cose schiacciate che poi non riesco neanche più a prenderle e ad armeggiare dentro lo zaino comunque qui dentro sempre una borsetta impermeabile non si sa mai cosa possa succedere e adesso causa di cpm coronavirus viviamo tutti nello stesso mondo una mascherina fornita direttamente da ferrovia dello stato dove dentro c'è un po di amuchina cose per pulirsi le mani e mascherina di ricambio che è sempre utile girando lo zaino così c'è un'altra tasca tasca che per me è fondamentale per accedere velocemente al mio macbook di scelta oltretutto quest'altra tasca e se si apre così ha anche lo spazio per un eventuale ipad comunque io quando vado in viaggio gran parte delle volte porto soltanto il mio macbook che è un macbook pro da 15 pollici del 2017 aspettando che arrivino i macbook pro da 15 pollici con il processore m1 per fare l'upgrade perché ormai per tutte le cose che devo fare sta diventando un po lentino questo computer poi qui nel tavolino che vi stavo facendo vedere prima ci sono altre cose che alle volte porto via e altre cose che alle volte non porto via come per esempio il mio ipad pro da 12,9 pollici con tastiera in realtà l'ho preso nella speranza che un domani si riesca ad utilizzare soltanto questo e quindi riesco un attimo ad alleggerire la mia attrezzatura purtroppo in questo momento sono ancora molto molto più veloce nel mio lavoro con il macbook quindi se devo andare in giro e devo scegliere tra i due scelgo sempre il macbook mentre qui a casa lo utilizzo per altre funzioni prendere appunti leggere libri ascoltare libri eccetera spero che man mano con i prossimi aggiornamenti apple renda questo dispositivo ancora più potente perché secondo me c'è ancora tanto spazio per il miglioramento ma in questo momento se devo fare una scelta per il mio lavoro scelgo il macbook altrimenti li porto via tutti e due se c'è spazio poi molto spesso porto con me anche un bloc notes che metto in questa tasca che non vi ho ancora mostrato perché qui sulla destra c'è un'altra tasca che si apre così è sempre accessibile e io ci ficco dentro il mio bloc notes se il viaggio è particolarmente lungo devo andare in un luogo per più tempo quindi un paio di settimane se non un mese porto via con me ovviamente tutti i miei documenti che sono raggruppati in questo porta documenti che ha anche tutte le mie carte ora non vi tiro fuori e non vi faccio vedere cosa c'è qui dentro ci sono tutti i miei documenti tutte le carte che ho attive che possono essermi utili oltre che qualche soldo in contante perché non si sa mai alle volte non tutti i paesi e non tutti i posti accettano le carte se il viaggio è lungo prendo e fico qua si chiude poi in alcuni casi porto via con me i miei occhiali anti luce blu se so che dovrò lavorare intensamente davanti al computer ed infine ultime cose questo sempre se so che andrò in un viaggio lungo è una corda intelligente che tra l'altro ho fatto vedere anche all'interno di uno dei miei unboxing ed infine ultimo strumento che inizierò a portare con me e che avete visto in uno degli ultimi unboxing lista 360 one r che porterò con me nel caso io debba riuscire ad ottenere delle riprese particolari che ci sta tranquillamente ho già provato dentro il porta oggetti più grande detto questo qui sotto in descrizione trovate tutti i link a tutti gli oggetti che ho menzionato però prima di fare un qualsiasi tipo di acquisto vi consiglio di andare a vedere il mio video su come risparmiare sugli acquisti online che tra l'altro ho fatto uscire da pochissimo perché secondo me potreste approfittare di qualche offerta e potreste approfittare di qualche strategia intelligente fatemi sapere cosa ne pensate della mia attrezzatura e se avete qualche suggerimento per migliorarla iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video lasciate un mi piace se il video è stato interessante vi è stato utile e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao a tutti ragazzi ciao a tutti